Anche in questa mattinata siamo pronti a tornare nella scuola di musica Born for Music per parlare ancora di questa bella passione. Noi l'abbiamo perché vi facciamo ascoltare la musica ma ci piace pensare che possiate anche voi creare musica. E con noi anche oggi c'è Rossella che salutiamo. Rossella buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Cosa raccontiamo oggi? Che cosa hai voglia di raccontare prima di Natale? Qualcosa che invoglia gente, l'abbiamo già detto anche delle offerte, delle cose particolari da regalare per Natale. O c'è qualche altra novità? Mi veniva in mente di parlare un secondo soltanto della musica d'insieme che è un corso molto divertente che consente agli allievi di rapprociarsi un po' con tutti gli strumenti e soprattutto di socializzare. Ed è una cosa che vedo che ai ragazzi piace molto perché così fanno anche pratica per poi potersi magari esibire tra loro in qualche serata. Questa settimana poi visto che è Natale, tutto in promozione, in particolare la batteria. E quindi questa settimana possiamo proporre con uno sconto consistente del 40% la batteria a tutti coloro che vorranno iscriversi per il nuovo anno. Tra l'altro noi siamo in chiusura come tutti. Chiudiamo il 22 e riapriremo all'8 ma saremo ben contenti di ricevere le telefonate degli spettatori di Radio Millennium che vorranno usufruire di questa promozione. Intanto volevo ricordare allora anche il numero di telefono visto che ci siamo se qualcuno non può raggiungervi in questi giorni magari chiedere informazioni anche soltanto al telefono 0247718798. C'è anche il sito che è born4music.it il for è scritto con il numero quindi born4music.it per chi non sapesse magari benissimo l'inglese. E sono, lo ricordo ancora, in via Bartolomeo Dalviano 53 zona bandenere a Milano. Grazie comunque Rossella ci risentiamo quindi l'anno prossimo. Grazie a te, grazie a tutti e buon Natale a tutti. Grazie a tutti.